Ciao fedeli tifosi del Milan che volete fare una tripletta a Torino, per ingaggiare una stella della Serie A, ma prima iscrivetevi al canale per non perdervi le notizie rosso-nere di prima mano, e lasciate il vostro like per rafforzare il canale seguendo il mercato il Milan sta mantenendo la promessa di, continuare a investire pesantemente nella prossima finestra. Il Milan è pronto a investire in difesa quest'estate dopo aver perso diversi obiettivi durante la finestra di, trasferimento di gennaio, e ci sono diversi obiettivi che potrebbe perseguire. Come riporta Calciomercato.com, negli ultimi mesi molti difensori di talento sono stati accostati al Milan e molti di loro potrebbero essere avvicinati in estate per un trasferimento. Allo stato attuale, l'obiettivo principale sembra essere Alessandro Buongiorno. Il centravanti del Torino era stato preso di mira a gennaio, ma era chiaro che il presidente del Torino Urbano Cairo non aveva intenzione di lasciarlo partire a metà stagione, senza pagare un prezzo molto alto. In estate, però, ascolterà le offerte e il Milan sarà tra i favoriti per l'acquisto dell'italiano. Un'altra potenziale opzione è il difensore del Wolfsburg Maxens-Lachreichs. Negli ultimi due anni è stato accostato a diverse squadre di alto livello e potrebbe essere pronto a trasferirsi quest'estate. Lillian Brassier dello Stade Brest sembrava davvero vicino a firmare per il Milan a gennaio, ma la squadra francese non ha voluto un prestito, mentre Tossina d'Arabioio del Fulham è in scadenza di contratto quest'estate e sarebbe un'opzione libera. Lo stesso vale per l'Aide Kelly del Burnmouth. Quindi, tifosi rossoneri, secondo voi Alessandro Buongiorno sarebbe un buon acquisto, sì o no? Fateci sapere la vostra opinione nei commenti, perché è molto importante per i Milan. Restate sintonizzati e tornerò ad aggiornarvi in qualsiasi momento con le ultime notizie sul Milan.